Ah, sì, noi dobbiamo fare il test di rotazione, bisogna dimostrare che non è vero, che non gira. Sì, ma magari anche un po', ma che ne sono provato, infatti non è faiato. Correvoce che questo oggetto, se appoggiato su una superficie liscia, giri su se stesso. Allora proviamo. Innanzitutto pigiando non dondola, si alza un po' se si schiaccia il tasto, ma non dondola, anche se ha il fondo bombato, se io pigio e poi lo tocco, si, vuota appena appena appena, ma pochissimo. Per farlo girare dovrei spingere l'acqua, però per il resto resta fermo. Se io faccio scorrere l'applicazione, anche così, dobbiamo fare una piega. se lo giro così, blocco, e questo blocco, e questo blocco del livello di valutazione, anche se faccio così, però così non mi prende più, mi fa scorrere l'applicazione. Non gira, non gira, se ne sta fermo per i fatti su. Bene, questa è la testa importante. è una bufala. Non è vero che giro su se stesso quando lo si mette sulla sopra e precedisce. Scorre, se lo si spinge di lato, però se io faccio così, non si sposta. Bene, fine della prova. Grazie.